Vincenzo Speziali, l'uomo di affari originario di Catanzaro, ma residente a Beirut in Libano, nell'ambito del processo che si celebra a Reggio Calabria e che vede imputato anche l'ex ministro Claudio Scaiola per la procurata in osservanza della pena al latitante Amadeo Matacena, ha patteggiato la pena a 12 mesi di reclusione. Speziali, sposato con una nipote di Amin Gemmaiel, era accusato come Scaiola di aver favorito la latitanza dell'ex parlamentare di Forza Italia, condannata a tre anni di reclusione per concorso esterno in associazione mafiosa. Il fatto che Speziali abbia patteggiato la pena non gioca a favore della posizione processuale di Scaiola, accusato proprio di aver cercato di far giungere Matacena in Libano in collaborazione con lo Speziali, per evitare il rischio di estradizione in Italia. Nei confronti di Vincenzo Speziali era stata anche emessa un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, che non è stata eseguita perché l'uomo si trova in Libano, un'ordinanza che ora col patteggiamento viene meno.